Devo dire che ormai è un appuntamento consueto, quello a Città della Scienza, sono tre giorni per riflettere rispetto a quelle che sono le competenze e conoscenze che devono acquisire i ragazzi, ma anche metodologie che in qualche maniera possano intercettare il loro interesse. La Regione Campania continua ad investire sulla scuola, penso a Scuola Viva che ormai è un programma consolidato, ma ci sono tantissime altre iniziative, c'è l'iniziativa Promossi, ci sono una serie di attività che noi stiamo cercando di spingere all'interno delle scuole, in particolare il supporto psicologico. A brevissimo partirà in 440 delle nostre scuole il servizio di psicologia scolastica, proprio perché pensiamo che al di là del fatto che i ragazzi debbano costruire quelle che sono le proprie competenze, dobbiamo anche stare attenti a quelle che sono le loro sensibilità e anche la capacità di relazionarsi all'interno della classe e della comunità scolastica. Grazie a tutti!